Sono felice che tu sia tornato. Immagino che ci metterai un po' di tempo per abituarti. Devi semplicemente rimetterti in gioco tutto qui. Palmer, sei stato due volte tra i migliori giocatori al liceo. Sì, signora. Sono cambiate molte cose. Quel ragazzo, quello è Sam. Sua madre se n'è andata di nuovo. Sam starà con noi fino a quando non torna. Sai di essere un maschio, vero? Sì. Tu lo sai quando tornerà la mia mamma? Dovrà essere dato in affido. Quel ragazzino ha qualcosa di veramente grave. Come ci sei finito in prigione? Non importa, ho fatto quello che ho fatto. Beh, guarda cosa hai fatto oggi. Ascoltami, i bambini sono cattivi. Soprattutto quando vedono qualcosa che non sono abituati a vedere. Non sei altro che un criminale. Tu non puoi occuparti di nessun bambino. Ci sono cose in questo mondo che puoi essere e cose che non puoi essere. Quanti maschi vedi in quel cartone? Nessuno. E questo che ti dice? Che posso essere il primo. Dulcetto scherzetto? Ho qui dei dulcetti. Ma la verità è che non sentivo di essere bravo in qualcosa. Fino all'arrivo di sé. È tornata Shelly. Lascia la mia mamma! Mi la metti di pezzo! Non ce l'hai fatta a stare fuori dai guai, vero? Barber! Non posso abbandonare quel bambino. Io non abbandonerò quel bambino. Ho sentito che avete preso il tè tutti insieme l'altro giorno. Oh, sì. Attento, Palmer. Scotta. Migneli, prego. Mmm. Sì. Mmm. Molto buono. I film con i maggiori incassi di sempre, lo sapete? Al terzo posto resiste Titanic, con 2 miliardi e 195 milioni circa. Secondo posto per Avatar, con 2 miliardi e 790 milioni. Al primo posto c'è Avengers Endgame, con 2 miliardi e 797 milioni. Questa classifica non tiene conto del tasso di inflazione, altrimenti al primo posto ci sarebbe via col vento. Per oggi è tutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi cliccando qui sotto e attivate la campanellina. Ciao!